Ad inizio settembre abbiamo qualche anniversario da festeggiare, qualche cosa di interessante che è caduta nel passato in particolar modo per quanto riguarda i 200 metri azzurri perché in questa occasione il 3 settembre e anche il 4 settembre sono arrivate due medaglie olimpiche dai 200 metri la prima è stata a Roma nel 1960 ai giochi olimpici grazie a Livio Berruti che con il tempo manuale ovviamente perché non si usava il tempo elettronico in quei tempi di 20 secondi e 5 decimi è riuscito oltre a vincere loro anche a conquistare il record mondiale più che conquistare l'aveva eguagliato tra l'altro sia in semifinale che in finale ed è anche un record che durerà qualche anno perché verrà battuto solo 3 anni più tardi quando Henry Carr statunitense lo abbasserà a 20 secondi e 3 decimi poi spostiamoci avanti di 3 edizioni olimpiche arriviamo a Monaco nel 1972 quando Pietro Mennea riesce a fermare il cronometro a 20 secondi e 30 stavolta a tempo elettrico e riesce ad ottenere la medaglia di bronzo sempre nei 200 metri sempre giochi olimpici e qui ci troviamo in un'epoca in cui il record mondiale era stato abbassato a 19,8 grazie al giamaicano Don Kerry e ci troviamo in anticipo di 7 anni e poco più rispetto al record mondiale che farà proprio Pietro Mennea la città del Messico con 19,72 nel 1979 se non vuoi perderti queste curiosità storiche mi raccomando segui i pillole di atletica se non lo stai già facendo, se lo stai già facendo ti dico anche grazie mille e anche se lo farai da questo esatto momento ti dico grazie mille mi raccomando buon divertimento agli allenamenti e in bocca al lupo alle gare ciao ciao